Altre due stazioni, small side game, quindi gioco a spazio ristretto, lavoriamo per fare gollo, l'obiettivo è fare gollo, le regole poi ve le diranno i vari misteri di riferimento, transizione di ambito motorio, quindi facciamo un pochettino di movimento, qualche spinto, qualche scatto, un pochettino di roba di questo tipo qua, però verrà sempre spiegato, ci ci scambiamo come gruppo e poi gli ultimi due turni facciamo una partita a tema e una partita a ristretto, va bene? Sette stazioni in totale, ciao! Non è ritardo, arrivo! Vai, vai, vai! Sette stazioni in totale, lavoriamo fino alle 5, un quarto, 5, 20, così come è già la vostra l'area di allenamento, ok? Buon divertimento! Seguite i vostri tecnici, vai! Ci troviamo al nuovo di via Olimpia per una seduta di allenamento con i tecnici del centro tecnico federale della FIGICI di Castel di Sancro, che sono venuti per il progetto Asta. L'ultima volta, 15 giorni fa, con cadenza, le nostre ragazze vanno a Castel di Sancro, dopo riceviamo la visita dei tecnici del centro federale di Castel di Sancro della FIGICI. scusate, me è scivolato lo smartphone. fondo. Ho le mani gelate quindi sono più che giustificato. Ecco le nostre ledi giallorosse della scuola calcio della Virtus Castelfreddano nella seduta di allenamento. Buonasera mister Gabriele, ecco il nostro coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile mister Gabriele di Felice c'è dei nostri tecnici noto c'è mister Ragno, mister Anna Rita Valente che è anche la nostra piscologa c'è mister Chico ecco adesso primo approccio con il pallone così si cominciano pure a riscaldare fa freschetto ma sicuramente è giustamente il tempo suo che dice che fa la neve sto fine settimana ma noi impavili e temerari come ogni pomeriggio come da programma ci portiamo qui sul terreno di gioco o qua del nuovo di via olimpia o della vittoria di via nazionale per le sedute di allenamento dei ragazzi delle varie categorie ci avviciniamo al santo natale qua dal nuovo di via olimpia di Castelfrentano per il progetto AST ci sono venuti a trovare e presedere AIE al programma di allenamento previsto per oggi mercoledì i tecnici del centro federale della FIGITI di Castel di Sancro ecco si sono aggregati in altre due o tre ragazze ovviamente tra gli impegni scolastici alcuni vengono anche da fuori lanciano giustamente bisogna dare il tempo di arrivare di prepararsi e quindi di scendere in campo ecco sia i nostri tecnici insieme con i colleghi del centro federale della FIGITI di Castelfrentano osservano, scrutano, valutano i progressi delle nostre ledi giallorosse abbiamo se non ero sei o sette ragazze che già frequentano il centro federale gli impianti sportivi del centro federale della FIGITI di Castelfrentano ci sono anche alcuni maschietti ci sono un paio di ultimi aggregati e faranno il loro percorso anche loro come negli anni precedenti degli altri bambini e bambine così acquisiscono più esperienza sicuramente andranno a perfezionarsi al centro federale facendo nuove conoscenze aggregazione con gli altri ragazzi e ragazze del centro federale ecco si vedono io ecco il primo alla mia sinistra è responsabile dei tecnici si vede la scritta Italia sul petto della sua tuta questo è il mister camillo se non è così bardato anche con la mascherina il cappellino si è reso quasi irriconoscibile invece il mister camillo ok alle prossime riprese in quanto questa seduta durerà circa un'ora e mezza qua sul nuovo di via Olimpia di Castelfrentano il tutto nel rispetto del progetto Astro del rispetto grazie